Saluto l'economista Fabio Fortuna che è in nostra compagnia per commentare le notizie di questa settimana direi professore. Bentrovato. Buonasera, grazie e l'invito come sempre. Anche perché il dibattito politico spicciolo, chiamiamolo così, abbiamo visto che in queste ultime ore si concentra intorno al tema dei migranti, al tema del dibattito tra i partiti. Però questa settimana è cominciata la corsa alla riforma del fisco, professore. Si tratta di una cosa molto importante che riguarda tutti noi cittadini. Sì, la corsa come l'ha chiamata lei dura da decenni perché noi abbiamo un sistema fiscale che ancora essenzialmente risale al 1973, a quei decreti del 29 settembre che sono stati rivisti, sostituiti, modificati. Però questa potrebbe essere l'occasione, speriamo, per attuare la famosa semplificazione fiscale della quale sentiamo parlare da tempo immemorabile ma che stenta sempre a venire. Ci sono delle anticipazioni, poi durante la prossima settimana dovrebbe approdare al Consiglio dei Ministri, ma sappiamo che per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta sui redditi, quella che riguarda le persone fisiche, ci dovrebbe essere una riduzione del numero delle aliquote, attualmente sono 4, 23, 25, 35 e 43 che crescono all'aumentare del reddito e verranno ridotte a 3, probabilmente privilegiando le fasce meno abbienti e il ceto medio, lasciando pressoché inalterato o diminuendo poco il prelievo sulle fasce più alte di reddito. Anche l'IRES, l'imposta sul reddito delle società, dovrebbe subire una modifica. L'IRES si basa su un'aliquota del 24% ma si parla di affiancare ad essa un'aliquota minore che riguarderà ciò che le società investiranno nell'occupazione e negli investimenti. Quindi vedremo come si snagherà. Professore, da che cosa origina la necessità di questa riforma fiscale? Abbiamo detto che è una corsa che va avanti da tanto tempo, ma perché è così necessario questa riforma? È necessario per diminuire la pressione fiscale attuando anche un contrasto all'evasione robusto. In settimana sono stati manaditati, 20,2 miliardi sono stati recuperati nel 2022. È un buon risultato, anche se avevamo avuto un risultato pressoché analogo prima della pandemia, rispettivamente nel 2018 e 2019. Quindi bisogna migliorare il contrasto all'evasione per diminuire la pressione fiscale e migliorare e razionalizzare il sistema attraverso una serie di interventi. Il problema sono le coperture, ma noi abbiamo 592 tax expenditures, che sono quelle agevolazioni innumerevoli, 165 miliardi, sui quali si può intervenire. E lì bisogna trovare i mezzi per razionalizzare. Poi c'è un'ipotesi di aliquota zero, visto che l'IVA è completamente un onere per i consumatori, per i cittadini, per i beni di maggiore necessità. E poi tanti altri interventi. Quindi razionalizzazione, un sistema organico che consenta di salvaguardare le fasce più povere e il certo medio e al tempo stesso di attuare una semplificazione che appare sempre più necessaria. Professore, adesso chiaramente questa riforma sarà molto complessa, si svilupperà nelle prossime settimane e noi continueremo a monitorare anche grazie al suo aiuto. Più vicina è invece la prossima riunione della Banca Centrale Europea. È già stato annunciato da parte del Presidente della Banca Centrale Europea un ulteriore ritocco al rialzo di 0,50. Dove andiamo a finire con questo aumento dei tassi che ci sta un po' opprimendo tutti? Perché insomma qui c'è chi ha il tasso variabile nel mutuo che ha visto quasi raddoppiarsi la rata, professore. Questo è vero, fino adesso da luglio la BCE ha rialzato del 3%, si preannuncia ancora uno 0,50. Anche Visco ha richiamato l'attenzione su questi rialzi robusti e ha richiamato l'attenzione sul fatto che si era detto di agire meeting by meeting, cioè vedendo la situazione e cercando di frenare il rialzo. Insomma questo deriva anche dall'America, dalla Fed che ha cominciato a marzo e è aumentato del 4,50 con delle conseguenze che purtroppo abbiamo visto proprio nelle ore più recenti. Il fallimento della Silicon Valley Bank. Sì, della banca americana. Esattamente, 18esima banca americana, quindi non grandissima, ma insomma regionale, ma con 175 miliardi di depositi, quindi una banca interessante, che è entrata in crisi per i rialzi forti dei tassi che hanno determinato un aumento notevole del costo del debito per le start-up, perché sono principalmente queste le imprese che erano in contatto con questa banca, esattamente, e poi anche una svalutazione dei titoli obbligazionari, perché la banca aveva acquistato tanti titoli del debito pubblico, titoli obbligazionari, la cui valutazione purtroppo è scesa e ha determinato una perdita di 1,8 miliardi, che ha messo in crisi la banca, commissariata dall'organismo che esiste in America per queste operazioni, quindi i depositanti non hanno nulla da temere, però indubbiamente è un segnale d'allarme che ha messo un po' in agitazione i mercati, prima in America e poi in Europa, ma il nostro Putsimib ha tenuto bene, è stato quello che ha tenuto me, tra i migliori, le banche ovviamente sono andate un po' giù, 3,8, quindi sicuramente è un momento difficile, ma il nostro mercato azionario, il Putsimib, è il migliore al mondo da inizio anno, esattamente, questo diciamolo perché bisogna dare anche belle notizie, esattamente, perché guadagna più del 15%, il migliore al mondo. Bene, grazie allora l'economista Fabio Fortuna, che è nostra compagnia, ed è sempre un piacere averlo nostro ospite. Alla prossima allora, professore. Grazie, è un piacere mio. Grazie.